Buon pomeriggio a tutti, la Roma è pronta, la Roma famiglia è pronta alla seconda giornata del campionato di calcio di Serie A contro il Comod. Arriva il cross dentro, il colpo di testa, la gran parata di Kurenciova su Minami. Giacinti allarga, arriva il cross dentro l'area di rigore, mette fuori Rizzon, la conclusione da fuori e arriva il gol della Roma. Palla con Kumagai. Apertura larga su Emiliove che punta Rizzon, ove, ove, al vertice dell'area di rigore, al centro, Greggi finta, Greggi sinistro ed è un credibile palo, incredibile palo. Stavamo per darla praticamente dentro questa palla. Palla su Sevenius, Sevenius cross dentro nell'area piccola, la conclusione da parte di Baldi con la parata. Ove dalla parte opposta dove c'è Giuliano, il sinistro, la gran parata. Giacinti deve girarsi, tocca l'indietro, Kumagai, l'apertura su ove che entra in area di rigore, ove destro, la parata. Colpo di testa di Rizzon a mettere fuori, arriva a Valdesate, scarica con il destro, e ancora una grande parata, poi Giacinti! Valentina Giacinti, 2-0 al cinquantaseesimo minuto. Greggi, affonda Greggi, cerca il cross dentro, nell'area piccola, Lyonna alto. Lyonna, movimento di Fiersinger all'interno dell'area di rigore, anche quello di Vienne, il cross, troppo su Corenciova, e poi però arriva il gol della Roma! Il gol proprio con Tomaselli, appena entrata, Martina Tomaselli, 3-0. Ragazzoli, cercato Monnecchi, ma la chiusura di Ekpobrun, attenzione, errore, e c'è il gol del Como. Lyonna, dentro, Vienne, Vienne, pallone! Vienne, che entra in rete per il 4-1 da parte della Roma. Arriva il triplice fischio dell'arbitro Totaro, Roma batte nettamente il Como per 4-1.